Il progetto del tunnel ha peso al TAR, oggi al Tribunale Amministrativo la richiesta di sospensiva del contestatissimo intervento del Comune di Termoli, aggiorni il verdetto che potrebbe bloccare tutto. Viabilità dissestata tra Molise e Puglia, critica la situazione sulla provinciale che collega Colletorto alla Capitanata, interventi attesi da oltre dieci anni rischiano di mandare in crisi l'economia della zona. Trapiantato il pancreas a un ragazzo di 14 anni, l'organo artificiale impiantato al Santimoteo di Termoli e il primo intervento del genere in Molise all'avanguardia in Italia. Le opere di Elena Ciamarra in mostra a Torella del Sannio, disegni e dipinti della pittrice molisana esposti nella sala comunale fino al 6 gennaio, il Comune ha anche dedicato una strada all'artista che ha dato lustro al paese. Domani il calendario della testata sportiva, l'edizione 2019 presentata al Coriolis di Ripalimosani, 12 mesi della TGS in distribuzione gratuita da venerdì nelle tre redazioni di Telemolise. Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Telemolise. Dunque il progetto del tunnel contestatissimo è sul tavolo dei magistrati amministrativi del TAR. La richiesta di sospensiva è stata depositata stamattina. I giudici hanno subito avviato l'analisi, l'esame del ricorso e nel giro di qualche giorno arriverà la decisione, una decisione che potrebbe anche bloccare tutto i dettagli nel servizio di Pasquale Di Bello. Con l'udienza di questa mattina davanti al TAR Molise è giunta ad uno snodo decisivo la vicenda tunnel che da anni tiene banco a termoli un braccio di ferro, quello tra i comitati contrari alla realizzazione dell'opera e l'amministrazione sbrocca che in pratica ha monopolizzato il dibattito politico e amministrativo nella cittadina adriatica sul progetto di riqualificazione urbana. In discussione questa mattina davanti ai giudici amministrativi la richiesta dei comitati tesa a bloccare la realizzazione dell'opera. Le ragioni dei comitati sono che non c'è stato un referendum consultivo sancito dallo statuto comunale per poter portare all'attenzione della pubblica attenzione il progetto che loro vogliono fare. Un progetto che è nato in modo particolare, che è cresciuto nel tempo, doveva essere prima un tunnel, poi diventato un tunnel con parcheggio e poi diventato un tunnel con parcheggio con annesse costruzioni e altro. Quindi già questa logica fa capire che qualche cosa non funziona. Opinioni chiaramente diverse sul fronte dell'amministrazione. Secondo l'avvocato del Comune ci sono tutti i presupposti per proseguire verso la realizzazione dell'opera. Stiamo parlando di una istruttoria che è durata oltre due anni e che merita di essere approfondita nella sede propria, che è quella dell'esame di merito e quindi non nell'esame cautelare odierno, anche perché il procedimento è ancora in corso, ci sono dei segmenti procedimentali ancora in essere, per cui il pericolo della manomissione del territorio non è ancora concreto e attuale. Per cui ritengo che non ci sia spazio per l'ottenimento di una misura cautelare che finirebbe per interrompere un procedimento. A ribadire le ipotesi di censura sono invece gli avvocati che difendono le ragioni dei comitati. Insieme ai colleghi dell'avvocato Iacovino stiamo seguendo ormai da tempo questo ricorso con la speranza che oggi il Tar possa pronunciarsi e quindi concedere una sospensiva rispetto ai provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Termoli. Per noi il provvedimento, ma credo anche non solo per noi, per il gruppo dei ricorrenti che sosteniamo, dobbiamo dire che per la stessa Regione Molise il provvedimento è visiato. Lo stesso Consiglio regionale del Molise si è espresso con una mozione all'unanimità sulla possibilità di concedere il referendum su questo benedetto tunnel. Sappiamo invece che il Consiglio Comunale di Termoli, ancora recentemente l'ultimo Consiglio Comunale, ancora strenuamente non ha concesso la possibilità del referendum. Con la discussione davanti al Tarra adesso si aprono due tipi di scenari. In caso la sospensiva non venga concessa, l'amministrazione sbrocca potrà mettere in cantiere l'opera. In caso invece venga concessa, oltre al colpo politico durissimo che si abbatterebbe sul governo della città adriatica, è chiaro che l'opera si bloccherebbe e toccherà ai nuovi amministratori prendere in carico la spinosa questione. Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado del Tarra, ha dato ragione alla Regione che nella precedente legislatura si era giustamente opposta alla realizzazione di un parco eolico sul territorio di confine tra Riccia e la Campania. A darle notizia la consigliera regionale Micaela Fanelli, siamo stati sempre a favore delle energie rinnovabili, ha detto Fanelli, ma contro i grandi agglomerati eolici che sfruttano il territorio violando la lunga serie di tutelle ambientali garantite dalla legge senza restituire nulla ai comuni, ha concluso la consigliera regionale del PD. E' sempre più critica la situazione della strada provinciale 73, quella che collega Colletorto alla provincia di Foggia, mancano interventi da una decina d'anni e tutta l'economia della zona è in sofferenza. Giovanni Minicozzi. Il cartello che segna il confine tra la Puglia e il Molise è invaso dalle cartacce. Un biglietto da visita posto all'altezza del ponte sul fiume Fortore, tra Casanovo e Colletorto, che lascia solo immaginare lo stato della strada su fronte molisano. Sono immensi i disagi per la viabilità lungo la provinciale 73 che collega il paese, oggi commissariato, ai centri della provincia di Foggia. Una situazione sempre più insostenibile che si riflette sulla già debole economia locale e va a penalizzare la viabilità dell'intero territorio. Parte della strada è infatti chiusa al traffico e devastata da una frana che risale addirittura a 13 anni fa. Da allora nulla è cambiato e nessun intervento è stato realizzato lungo l'arteria che conduce peraltro al bivio di Carlantino e alla diga di Occhito. Il fondo stradale è stato inghiottito dal dissesto e impedisce di fatto i collegamenti anche tra le contrate. Non solo. Dalla storica casa cantoniera fino al ponte sul fortore, le voraggini e altri ostacoli di percorso hanno letteralmente devastato la vecchia provinciale, un quadro assurdo e desolante che da tempo solleva le proteste dell'intera comunità in assenza di un intervento concreto che si è fatto sempre più necessario. Una questione di vera e propria sopravvivenza per il comune di Colletorto e per i centri limitrofi. Della vicenda si è interessato il portavoce di Fratelli d'Italia, Cosimo Mele, che ha raccolto decine di segnalazioni tra i residenti. I disagi sono immensi per l'agricoltura, per gli imprenditori, per le aziende agricole, per i vari allevamenti che si trovano a dover percorrere più volte al giorno questo tratto di strada per portare i nostri prodotti in Puglia. Il disagio che viene creato da questa situazione di mancanza di viabilità. La strada si trova in uno stato indecente e impercorribile. Lo stesso Cosimo Mele, infine, ha rivolto un accorato appello alle istituzioni. Io vorrei fare un appello al Presidente della Regione Donato Toma, al Presidente della Provincia Battista, ai vari parlamentari molisani, a tutta la classe dirigente politica. Non ci abbandonate. Qui c'è da fare un intervento con urgenza, urgentemente, e non solo di un piccolo tratto, perché è tutta la strada, è tutta la SP73 bis che ci collega alla Puglia. Questo è l'unico collegamento che noi abbiamo con la Puglia e si trova in uno stato disastroso. Non ci abbandonate. Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità dei presenti un'interpretazione autentica della legge sull'editoria che consente ai media precedentemente esclusi, tra cui anche la nostra emittente, di accedere ai contributi al pari di tutti gli altri organi di informazioni locali. si è posta la parola fine, così, a una delle più gravi ingiustizie degli ultimi cinque anni. Telemolise ringrazia tutti, anche chi non ha votato o ha abbandonato l'Aula, nel rispetto delle proprie ideologie personali o di partito. E ringrazia i colleghi di Primo Numero, Primo Piano e Teleregione per essersi schierati apertamente a favore di questo emendamento, consentendo così il dispiegarsi di una discussione in un clima sereno e proficuo. Di nuovo mobilitati, gli ex dipendenti della ITR hanno annunciato una manifestazione il 22 dicembre. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Nuovo incontro con Emilio Izzo degli ex lavoratori di ITR, di Risio e di Sattorie, ancora in attesa della mobilità in deroga autorizzata da Inps e Ministero, ma non pagata perché la Regione non ha i fondi necessari. Comunque i lavoratori sono esasperati e si profila un Natale ancora peggiore di quelli passati ed Emilio Izzo ha preannunciato una clamorosa protesta sabato sera di fronte all'auditorium dove si terrà il concerto di Natale. Succederà tutto quello che c'è da succedere se continueranno a non darci risposte, almeno così sembra. Se poi quello che noi appuriamo dai giornali dovesse corrispondere in qualche modo alla realtà, noi saremmo pronti a ritirare qualsiasi altra iniziativa, però una cosa è certa, sabato sera al concerto di Natale all'auditorium noi ci saremo, con i nostri sciscioni e grideremo vergogna a tutti quelli che finora non hanno dato la mano a questi lavoratori. Perché non solo si percepiscono compensi lautissimi, ma si va anche a un concerto di Natale in barba a persone che da mesi ti stanno rincorrendo per chiedere quel briciolo che non è niente rispetto a quello che prendono gli altri. Noi siamo incazzati neri, non guardiamo poi in faccia nessuno, abbiamo una rappresentanza regionale in questa provincia che è larghissima tra assessori e consiglieri, non ne abbiamo sentito uno, anzi li sentiamo ogni tanto per dei proclami che sono peggio anche delle promesse, allora che tutti se ne stessero a casa, anche io acquisterò il biglietto, però lo donerò a qualche mio amico per andarci se questo deve essere. Devono imparare che la vergogna è una sola se questo è il modo di andare avanti, altrimenti magari noi saremo pronti anche a ritirarci a casa con questi mesi di mobilità che aspettiamo. Insomma Emilio Izzo e i lavoratori aspetteranno i politici sabato davanti all'auditorium per inscenare una protesta diretta proprio contro di loro, anche se c'è chi, come Filomena Calenda, ha già preannunciato che lei parteciperà alla manifestazione, ma dalla parte degli ex ITR perché ieri in Consiglio regionale Donato Toma, rispondendo proprio ad una sua precisa domanda, ha detto che i soldi non ci sono e tocca al governo stanziare i fondi chiesti per pagare la mobilità agli ex ITR. E c'è infine anche una certa rassegnazione a Isernia ad essere considerati dalla regione di serie B rispetto ad altri lavoratori, come per esempio quelli della GAM di Boiano. Sono talmente evidenti i fatti che non c'è nemmeno né più da chiedere né più da chiedersi, perché se mesi fa ci dicevano che c'erano i soldi, mesi fa che c'erano le leggi, mesi fa che c'erano le proroghe, mesi fa che tutti i giornali sono tutti bravi. Allora la ricerca di tutto questo sta nel fatto che pare che l'Imbes abbia dato l'input che doveva dare. Poi alla fine però non si è capito come mai questi soldi sono andati a finire per arti rivoli. Lo stesso Toma aveva detto abbiamo trovato i soldi, lo stesso Mazzuto aveva confermato. Noi non ne vogliamo più di bugie. Allora io sono pronto a rifare il comitato per l'imbicimento a Tomo o anche a Mazzuto, se continueranno sotto questo aspetto. E sanno bene che questa spina nel fianco non se la toglieranno fino alla fine del loro mandato e faranno la fine che ha fatto frattura. Lutto in casa Pallante è venuto a mancare ieri pomeriggio prematuramente la signora Elvira, la sorella del nostro compianto editore Lelio Pallante e zia dell'attuale editore di Telemolise Quintino, la signora Elvira, molto conosciuta e stimata per le sue grandi qualità umane e professionali. Lascia il marito Tonino Niro e i quattro figli Antonella che ha lungo collaborato con noi, è stata anche nostra collega Isabella Gaetano e Quintino. Telemolise partecipa al dolore che ha colpito la famiglia Pallante con un grande e virtuale abbraccio. I funerali sono in programma oggi alle 15 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Campobasso. Parliamo adesso di scuola. Ci sono ancora difficoltà a Isernia per la Giovanni XXIII, ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Sono destinati ad allungarsi i tempi di avvio e chiusura dei lavori per la messa in sicurezza dell'ex centroanziani Sabino D'Acunto, destinato ad accogliere le sette classi della Giovanni XXIII di Isernia. Attualmente, come è noto, i ragazzi fanno lezione nelle aule recuperate all'ultimo momento a San Lazzaro, nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore e nell'edificio Azzurro. Doveva essere una sistemazione d'emergenza provvisoria e invece tra un inconveniente e l'altro si rischia di arrivare a primavera, se non addirittura alla fine dell'anno scolastico, per avere le nuove aule. La novità principale è rappresentata da un evento che finalmente si è realizzato, vale a dire l'ingresso dei dipendenti e degli operati del Comune per liberare i locali che dovranno essere ristrutturati. Malgrado ciò, dopo aver ascoltato l'impresa, si è appreso come i lavori non possano avere inizio prima del 7-8 gennaio, il che comporterà un inevitabile prolungamento degli stessi perché sempre a sentire il legale rappresentante della ditta affidataria passerà, trascorrerà sicuramente tutto il mese di febbraio, per cui rispetto a quella ideale tabella di marcia prefissata avremo già un mese di ritardo. Certo è che i genitori non hanno intenzione di stare a guardare né di rassegnarsi, sanno bene che ogni giorno i loro figli fanno lezione tra mille difficoltà, per questo già da domani si attiveranno per avere risposte e tempi certi sulla riapertura dell'ex centro anziani. Una delegazione di genitori si regerà all'ufficio tecnico o al Comune al fine di coordinare la comprensione di quanto riferisce il sindaco, col quale sono comunque in contatto, e quanto detto dall'impresa in modo da avere un quadro chiaro della situazione. Poi nell'ipotesi in cui nulla dovesse ulteriormente mutare, inviteremo anche questa emittente ed altre a comprendere la ragione per la quale i genitori si lamentano, facendo un sopralluogo alla chiesa San Giuseppe Lavoratore dove sono allocate 4-5 classi di quelle interessate per verificare che non vi sia uscita di emergenza ed è oggettivamente pericoloso. Se da un lato si esalta l'amministrazione per aver reso le scuole sicure attraverso anche l'inaugurazione dei nuovi poli, fa da contraltare questa situazione. È ricoverato in rianimazione l'uomo che oggi è precipitato mentre lavorava alla linea elettrica tra Capriati al Volturno e Presenzano in contrada Ponte Reale a Venafro. L'operario di 55 anni è caduto da diversi metri di altezza, non si sa ancora per quale circostanza. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale di Isernia, i medici si sono riservati la prognosi sull'accaduto, indagano i carabinieri di Venafro. E all'ospedale Santimoteo di Termoli invece, primo intervento di trapianto di pancreas su un ragazzo di 14 anni, Manuela Iorio. È il primo impianto di pancreas artificiale in Molise. Nei giorni scorsi è stato effettuato su un paziente di soli 14 anni dai medici dell'ospedale Santimoteo di Termoli. Si tratta, come fanno sapere dall'ASREM, di un intervento all'avanguardia non solo per la nostra regione ma per l'intero territorio, in quanto la sperimentazione avviata al Santimoteo è tra le prime in Italia. In gergo si chiama impianto del sistema ibrido ad ansa chiusa, ma è meglio conosciuto come impianto di pancreas artificiale. La sostituzione del pancreas con un dispositivo artificiale è applicabile solo in alcuni casi specifici. A bambini e adulti affetti da diabete mellito di tipo 1 hanno commentato dall'azienda sanitaria. È un trattamento sicuro ed efficace e se paragonato ad altri trattamenti, prolunga di ben due ore e mezza ogni giorno il periodo di normoglicemia, riducendo anche il rischio di complicanze croniche. Autonomamente, infatti, il pancreas artificiale modula il rilascio dell'insulina basale, in modo che la glicemia rimanga in un range ottimale, tale da consentire una regolare attività quotidiana al paziente, garantendone un miglioramento della qualità di vita. Il primo intervento di questo tipo è stato effettuato dall'Equipe di Diabetologia del Santimotio, diretta dalla dottoressa Celeste Vitale, che ha impiantato il dispositivo in un adolescente di 14 anni, diabetico da 6. Il sistema include un sensore sottocutaneo, una pompa per insulina e un cerotto per infusione, collegato alla pompa tramite catetere per somministrare l'insulina. Il funzionamento dell'impianto è strettamente legato alla formazione del paziente, che deve essere educato all'uso pratico del microinfusore e deve poi essere in grado di effettuare il conteggio dei carboidrati contenuti nei pasti assunti. Si tratta di una buona notizia anche per l'ospedale di Termoli, alle prese con la riduzione dei reparti e con una carenza cronica di medici e infermieri. Stiamo lavorando per ampliare l'offerta complessiva dei nostri servizi, cercando di portare in Molise tecnologie e prestazioni innovative ad alto valore, ha dichiarato il direttore generale ASREM, Gennaro Sosto. Con questa novità, l'ASREM si pone come importante riferimento anche a livello extraregionale, per l'assistenza e la cura territoriale del diabete, patologia cronica tra le più diffuse a livello regionale. A concluso Sosto. E a Termoli la scuola di Via Stati Uniti rimarrà aperta nel pomeriggio dalle 17.30 alle 19 per vendere le pigotte, le bambole di pezza, simbolo del sostegno all'Unicef. In questo caso sono state realizzate dalle nonne e dalle mamme degli alunni della terza C e terza D. Saranno proprio gli alunni delle due classi a partecipare alla vendita e il ricavato sarà devoluto naturalmente all'Unicef per i bambini dell'Africa. L'iniziativa si inserisce in un progetto scolastico sui diritti dei bambini che gli alunni hanno affrontato in classe con le maestre Liviana Marrone, Antonella Di Siro, Carmela Moffa e Anna Lollo Brigidi. Adesso parliamo di mostre di cultura all'auditorium di Sernia, agli scatti e i libri dedicati a Federico Labella. Sono state davvero tante le persone che hanno partecipato alla presentazione del libro dedicato al fotografo Federico Labella e alla mostra che ha permesso di ammirare i suoi scatti più significativi, raccontano i Sernia e la sua gente alla fine dell'Ottocento, un evento quello proposto all'auditorium reso possibile dall'ex presidente della regione Marcello Veneziale, pronipote di Labella e custode delle preziose lastre lasciate dal bisnonno. Per arrivare fino a noi hanno attraversato queste lastre pericoli di tutti i tipi perché hanno subito bombardamenti, guerre, traslochi di abitazione. Però un centinaio di queste lastre comunque sono arrivate fino a noi e ci raccontano e ci mostrano un'isegna che non esiste più. Del resto questa è la forza e la dignità delle vecchie fotografie, mostrare non la realtà ma mostrare cose che non esistono più. Per dare il giusto risalto al fotografo esernino, un vero innovatore a quei tempi, è stato anche scritto un libro. È riuscito a scattare tante foto, non solo ad Isernia ma anche nei paesi del circondario, ma a differenza dei fotografi di quel tempo che operavano solamente nei loro atelier privati, Labella scendeva tra la gente nelle grosse occasioni, i grossi avvenimenti, ad esempio quando fu inaugurato l'acqua solfuria da De Masi nel 1894, l'arrivo del primo treno a Isernia nel 1893, le festività religiose, le processioni, le chiese. La mostra, aperta al pubblico fino a domenica, è resa ancora più suggestiva dalla presenza di macchine fotografiche usate a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. I pezzi provengono da una nostra collezione, noi siamo appassionati da un bel po' di anni di macchine fotografiche e le raccogliamo, ne abbiamo ormai circa un centinaio. Quelle che sono esposte qui riguardano più che altro il periodo di Labella ma non solo e le abbiamo messe così a titolo esemplificativo, far vedere la macchina in legno all'astra. Le abbiamo rimediate un po' in tutto il mondo perché abbiamo intenzione di fare un'altra mostra che sarebbe l'evoluzione della macchina fotografica, quindi abbiamo macchine che hanno tutte un primato tipo prima autofocus, prima reflex, cioè tutte macchine che hanno fatto l'evoluzione della storia della macchina fotografica. La Torella del Sannio invece è esposte le opere di Elena Ciamarra, il comune del paese e gli ha anche dedicato una strada. Vediamo. Torella del Sannio intitola una via e dedica una mostra alla pittrice Elena Ciamarra. Un onore lo ha definito il sindaco Tonino Lombardi, oltre che un dovere dare il giusto riconoscimento ad una cittadina così che ha fatto dell'arte e della cultura un motivo di vita. Molisana per parte del padre Giacinto, sposato con la napoletana Adele Contieri, Elena nasce a Napoli il 23 dicembre 1894 e tra le pochissime donne a conseguire nel 1916 al Conservatorio di Napoli. Il diploma di piano e violino, quello di composizione e direzione d'orchestra, ma è soprattutto alla pittura che dedica il suo interesse e il suo tempo, frequenta la scuola d'arte, conosce artisti internazionali e gira l'Europa a visitare musei e gallerie. Nel castello di Torella, fortificazione del XII secolo acquistata dai Ciamarra agli inizi dell'Ottocento, Elena dipinge la gente del posto, i contadini, la campagna, lontana dal realismo sociale più incline a rappresentare il mondo conosciuto e familiare intorno al castello. Disegna su ogni cosa che ha a disposizione, cartoni, ritagli di giornale, con un tocco quasi infantile. Poche linee di carboncino sono sufficienti a dar vita a volti, personaggi, oggetti e paesaggi. Le stanze che oggi si visitano sono quelle della parte più antica dell'edificio. Nella camera da letto è stato ricreato l'ambiente più evocativo della vita semplice e schiva dell'artista, con il suo cavalletto, la tavolozza, il cappello di paglia per le sedute in plein air, il camice da lavoro ancora macchiato di colori, il letto, un pianoforte e ritratti e paesaggi che tappezzano le pareti. Tra gli ospiti il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico, il questore Caggeggi, il comandante provinciale dei Carabinieri, l'assessore Cotugno, l'avvocato Franco Neri e Franco Valente, questi ultimi curatori della mostra. 69 i dipinti selezionati per l'esposizione fra le centinaia custoditi nel castello. Il figlio Leonardo Cammarano ha ricordato commosso la figura della madre con la moglie Angela, ha voluto mettere a disposizione del paese l'opera della madre. L'ho guardata per anni, ha detto Leonardo, coltivare questa passione talmente forte da essere quasi una filosofia, un patrimonio dal valore nazionale e anche europeo, come sottolineato dai critici d'arte presenti, tra cui Maurizio Vitiello e Franco Lizza. Prorogata fino al 6 gennaio, la mostra delle opere di Elena Ciamarra è visitabile nell'aula consigliare del comune di Torella del Sannio. Risolto grazie all'associazione Noi 80 il problema della sicurezza MAC TT del liceo Majorana per la serata organizzata dalla stessa Noi 80. Grazie al sindaco Daniel Colaianni che ha dato l'autorizzazione, le due manifestazioni si svolgeranno nel Palasport di Miranda il 22 sera, sabato ci sarà Noi Noi 80 e il giorno dopo 23 sera il turno della serata danzante dei liceali. Il costo di ambedue le manifestazioni è a carico dell'associazione Noi 80 di Angelo Ricci. Porte aperte al Pilla di Campobasso nel classico giorno in cui viene illustrata la didattica, le offerte della scuola. Ce ne parla Valeria Farina. Una scuola moderna al passo con i tempi che offre mille stimoli e mille opportunità. Porte aperte all'istituto di istruzione superiore Leopoldo Pilla di Campobasso. Una giornata in cui i ragazzi pronti ad iscriversi ad un nuovo ciclo di studi, quello delle scuole superiori, hanno avuto modo di toccare con mano e calarsi nella realtà scolastica di via Veneto e di via Manzoni. Il Pilla propone tre tipi di scuola superiore, l'istituto tecnico economico, l'istituto tecnico costruzioni, ambiente e territorio e l'istituto professionale servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Noi facciamo scuola sempre guardando anche un attimo fuori dalla porta ma soprattutto anche guardando sempre l'Europa per poter migliorare e per poter dare il massimo ai ragazzi. Noi abbiamo l'istituto tecnico economico, l'istituto costruzione ambiente e territorio e il professionale per l'agricoltura. Tutte e tre le scuole funzionano con il metodo delle avanguardie educative dove ci sono i dipartimenti, ogni dipartimento ha un capo dipartimento e i ragazzi si spostano nella scuola come all'università per seguire le lezioni. Praticamente sono al centro ancora di più del loro apprendimento. Opportunità professionali di studio, metodologie sempre nuove per un sapere pratico e teorico avanzato basato sulle avanguardie educative. Abbiamo aderito a questo progetto, diciamo a questa sperimentazione dell'Indire che ormai è riconosciuta e quindi è un metodo vero e proprio. Sono gli studenti i protagonisti della loro stessa crescita? Sì, sono al centro e sono protagonisti del loro percorso, quindi loro sanno appunto come devono regolarsi, il discorso anche dell'apprendimento e dello studio. Noi qui facciamo moltissimo a scuola proprio per dargli il metodo e perché poi a casa devono approfondire ma soprattutto devono andare oltre quello che è il semplice assegno dei compiti. Le aule sono un po' tutte dei laboratori, poi la particolarità è che questa scuola pur essendo una scuola tecnica e anche professionale ha un caffè letterario, quindi noi andiamo oltre quello che è il nostro indirizzo. La scuola dell'infanzia paritaria Sacro Cuore invece in occasione del settantesimo anniversario della Fondazione al Teatro Savoia stasera presenta lo spettacolo Ieri Domani Oggi 70 anni insieme. Si esibiranno oltre ai bambini che frequentano gli anni in corso anche ex alunni. Protagonista d'eccezione la band dedicata a Cristina D'Avena. Siamo in chiusura ma prima c'è l'appello, vi riproponiamo l'appello della cagnolina che si è allontanata da casa a Venafro nelle vicinanze della pensione Elisa, Sally, la vediamo nella foto, ha un problema agli occhi e all'udito, dunque è importante ritrovarla, rischia di essere investita chi dovesse imbattersi in questo animale può mettersi in contatto con la nostra redazione. Vi segnalo poi la puntata stasera di Milibar, come sempre in onda il mercoledì alle 21 su Telemolise, poesia nelle vene, sarà ricordata la figura di Nicola Di Pardo, poeta termolese, del volume Aria d'Antico che appunto parla della sua figura. Ospiti di Pasquale Di Bello saranno Bruno Caserio, fotografo e curatore del volume, Roberto Cappella, poeta in vernacolo e l'opinionista Antonio D'Ambrosio. Ci fermiamo, vi lascio alle previsioni del tempo, tra poco più di mezz'ora ci ritroviamo per gli aggiornamenti. Grazie e a più tardi. Grazie.